Ciao amici youtube, qui con voi è ScialeBoom, Zai e oggi siamo in un nuovo video. Oggi come vedete mi trovo su FIFA 16 e siamo in un nuovo metodo di compravendita. Come vedete mi trovo sul mercato trasferimenti e il metodo di oggi sarà basato sui contratti oro. Come vedete il prezzo massimo qui è a 300 crediti, infatti noi prenderemo i contratti a 300, 350 crediti. Ovviamente ragazzi dovete scorrere nelle pagine e come vedete qui mancano 30 secondi e io faccio un'offerta di 350 crediti per venderli poi a 450 crediti. Se poi avete una botta di culo li vendete anche a 500. Ovviamente ragazzi dovete andare sempre a scorrere le pagine, pure nelle ultime pagine e dovete avere fortuna nel trovare contratti. Ovviamente ragazzi questo metodo funziona anche con il compra ora. Andate nelle ultime pagine, dovete scorrere ovviamente tantissime pagine e potete trovare dei contratti a 200 o 250 crediti per poi rivenderli a 450. Quindi con un ottimo profitto. Ovviamente ragazzi la tassa FIFA quasi non c'è, infatti sono 22 crediti di tassa FIFA se voi vendete i contratti a 450 crediti. Come vedete ragazzi qui negli obiettivi di mercato ne ho presi 4. Ovviamente non li prenderete tutti come in questo caso che è stato venduto a 500 crediti. Quindi voi capirete che si vende anche a 500 crediti il contratto raro. Come vedete qui tra i 50 e i 300 crediti. Nella lista di trasferimenti ieri sera sono stati venduti due contratti a 400 crediti e ora ho messo in vendita due contratti a 450 crediti. Tranne uno che ho messo a prezzo iniziale 400. Ovviamente ragazzi questo metodo è solo ed esclusivamente per la PlayStation 3. Lo potete provare anche sulla PlayStation 4 o su altre console ma con prezzi diversi ovviamente. Quindi ragazzi spero che questo metodo di compravendita vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!